La Lega Consumatori delle Acli lancia un appello a tanti spezzini perché si possono ancora convertire le vecchie lire in euro, però diciamo che l'iter burocratico fino ad adesso è stato un po' complicato. Cerchiamo di riassumerlo e cerchiamo di capire qual è l'iniziativa e l'appello che volete lanciare agli spezzini. Sì, principalmente il nostro obiettivo è quello di vedere soddisfatti ancora i possessori di banconote, ancora delle vecchie lire, ma ce ne sono ancora, in maniera da vedere riconosciuto finalmente i loro diritti a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, La sentenza recente è del 5 novembre del 2015 e ha dichiarato illegittima la norma di legge con la quale erano stati anticipati i termini di prescrizione. Cosa può fare il cittadino? Può dare ancora un'occhiata a vedere in casa se ha ancora qualche banconota, venire da noi presso la sede della Lega Consumatori in Piazza Chiodo 8 fino entro il 28, giovedì 28 gennaio del 2016, quindi abbiamo pochissimi giorni ma non è colpa nostra, in quanto le spiegazioni di come si doveva procedere per fare, restituire e procedere al cambio sono state rese pubbliche solamente ieri nella giornata del 21 da parte di Banca Italia con un suo comunicato nel sito www.bancoditalia.it e vedrete la cronistoria di tutto quello che è successo in questi anni. In definitiva noi vi aspettiamo il mercoledì e il venerdì prossimo dalle 9 e mezza a mezzogiorno e mezza nel pomeriggio per poter procedere a fare una domanda perché si blocchi, quindi interrompendo i termini di prescrizione legale e poi noi seguiremo a livello nazionale tutto l'iter del burocratico per poter arrivare ad avere dei risultati.